Dall'antivea a questo, mentre attorno alla prima, paura, attraversata delle cosi dell'alto piano, scienze al Cristo. Qui provo a alcuni discepoli che disse loro, avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete e qui alla fine. Lui risposta, non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo. E lei mi disse, quale battesimo avete ricevuto? Il battesimo di Giovanni risposta. Dizia a lui a Paolo, Giovanni fa il gioco di battesimo di conversione, dicendo al popolo di prete, il colore che sarebbe venuto dopo di l'ultima, cioè di Gesù. Un dico questo, si spece la partentata nel nome del Signore Gesù. E non appena Paolo ebbe morso l'oro per le mani, discesse su di l'oro lo Spirito Santo, e si mise la partentata nel mio figlio e al profetto. Era un minuto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinistra, mi potrebbero parlare di pervenne per tre mesi, di stupende e cercando di persuasare le persone fattori, di ciò che riguardava come essere i figli. Parola a lui, non per i'altro, è un minuto. Redi della vera, la tentata è il uomo, in un minuto, è un minuto. Solo per cui non prestiamo spese e sommini di Revelation, che fuggono la parte di un figlio e in l'Opria, ove si sole per un mon, cui l'inizio, Così si scioglie la scena di forma in fuoco e rispondono la pace d'avamo a Dio, in venire da terra e da terra e da terra. I giusti vedi svegliano, Gesù cantava per Dio e cantava per gioia. Cantava per Dio, unileggiave al suo cuore, Signore e di storia, in venire da terra e da terra. Padre dei bambini, difensore del Dio, e Dio nella sua Santa Natura, a Dio e solo Dio fa vivare una massa, forci e con gioia, in venire da terra e da terra. Alleluia! 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 Alleluia!